Rispetto all'anno scorso come sono andati quest'anno i saldi? Male perché c'è poca vendita, con la crisi che c'è non si vende più come una volta. Siamo partiti un po' a rilento, però quest'ultimo mese è andato abbastanza bene, non ci lamentiamo. Il tempo non è stato al massimo, soprattutto questa settimana, però stiamo lavorando. Si dividono i commercianti marchigiani sul giudizio relativo alla stagione invernale dei saldi, conclusasi mercoledì scorso. Qualche segnale di ripresa dopo i due anni di restrizioni c'è stato, ma i numeri sono ancora lontani da quelli del periodo pre-Covid. Due mesi in cui l'affluenza è rimasta in media invariata rispetto all'anno scorso, ma che non si è tradotta in un medesimo guadagno. La maggior parte dei titolari delle varie attività dichiara di aver registrato una diminuzione circa del 10% degli incassi rispetto ai saldi invernali del 2022. Più o meno lo sapevamo. Certo, ci sono dei periodi in cui magari i ripetanti del posto dicono, vabbè, mi prendo un giaccone. Io parlo di me, insomma. Li prendo un cappotto. Però se l'hanno fatto un anno, l'anno dopo non lo rifanno. Confidate nella stagione primaverile-estiva? Esatto. Speriamo che arrivi qualcosa d'estate. Qui l'unica possibilità è d'estate qualcosa. Ormai è stagionale. Va periodi, il weekend c'è un po' di gente, durante la settimana un po' meno, ma se c'è i prodotti giusti, lavori. Un andamento sicuramente attribuibile al periodo di difficoltà economica generale che molte famiglie stanno affrontando ed è da correlare alle nuove abitudini di acquisto da parte dei clienti. Clienti che comprano solo dopo un'attenta indagine di mercato e fanno spese in modo sempre più ponderato, tagliando soprattutto quelle non strettamente necessarie. La gente purtroppo dicono crisi, 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 ma c'è veramente la crisi. Stiamo facendo il possibile. Il Natale è stato così, così, però stiamo recuperando un po' con i saldi. C'è anche un altro fenomeno che ha preso piede, lo showrooming, ossia la tendenza ad informarsi sul prodotto in store per poi comprarlo online perché venduto a un prezzo più conveniente. Qual è il target della clientela che viene da voi? La signora, adesso qualcosina in più, vediamo nei giovani, iniziano qualche borsetta, qualche accessorio un po' più alla moda. Il target mio è un target medio, noi lavoriamo sul pronto moda, però alla fine sono contento. Aspettavate qualcosa di meglio? Le aspettative sempre meglio le vuoi, però bisogna sempre essere contentato.